Siamo stati delle settimane abbastanza turbolenti, da quando si sono aperte le liste abbiamo delineato il nostro mercato in uscita, il bagheria è stato la mia persona, siamo stati sotto accusa, sotto accusa da una parte della tifoseria con alcuni ex dirigenti che si sono scagliati anche in maniera non carina contro la mia persona, facendomi anche riflettere molto sul mio ruolo. Le eccezioni che abbiamo fatto sono state frutto di un'analisi oggettiva di costo benefici, non abbiamo riscontrato per le cifre che spendevamo un rendimento tale da parte di questi giocatori, sono delle persone d'oro, sono tutte delle persone d'oro, sono delle persone squisite, anche loro hanno accettato senza colpo ferire le decisioni anche perché probabilmente si rendono conto della loro situazione ma poi guarda è una cosa anche oggettiva, sono i numeri che parlano, però da grandi professionisti quali sono loro stessi hanno accettato le decisioni della società. C'è stata, come ti dicevo, una parte di questa dirigenza, di questa vecchia dirigenza che mi è venuta contro e devo dire che sono rimasto molto deluso da queste persone e mi sto tutelando nelle opportuniste contro queste persone che potrebbero nuocere sia alla mia salute che alla salute dei miei familiari e di quella del bagheria. La società non sta assolutamente smobilitando ma sta facendo degli innesti atti a migliorare la propria posizione di classifica. Noi all'inizio dell'anno non facevamo mistero quando dicevamo che volevamo vincere il campionato, così non è, ci siamo ritrovati nella parte del basta della zona playoff con il quinto posto, è chiaro che comunque abbiamo dovuto fare dei necessari innesti e l'innesto di Minà, un attaccante puro che ha fatto a sportellate per tutta, per tutti i 90 minuti della partita contro il Due Torri e lo stesso Nuccio è stato un motorino istancabile e non so quanti calci ha preso durante quella partita, sono la prova esatta del lavoro fatto dalla società. Lo si era rivisto il pubblico, poi purtroppo cosa è successo? Sicuramente stiamo facendo un lavoro istancabile sotto questo punto di vista perché vedere la tribuna, la gradinata insomma ripopolata durante le partite col Villabate, con la Cefalerium e con l'Ascari è stato sicuramente un colpo d'occhio importante, un tuffo al cuore, non sono però più disposto a uscire più un euro se non ci saranno le giuste garanzie, non possiamo impegnare risorse personali e familiari per andare incontro a una chimera, un sogno chiamato tribuna, gradinata aperta, ma non supportata da alcuna carta scritta e comunque dia garanzia di apertura.